Buongiorno, oggi ho il piacere di leggervi l'appunto 6bis tratto da Petrolio, come vedete una copertina bianconera di Pierpaolo Pasolini in edizione del 2005. I personaggi che vedono. E' strano che i veri e propri fatti di questo racconto comincino a essere, come dire, organizzati, vissuti da personaggi immaginari, ma, come si potrà capire meglio in seguito, non poteva essere fatalmente che così. Il lettore è dunque libero di immaginare dove tali personaggi si riuniscono. Siamo naturalmente a Roma, la Roma della fine degli anni 50. Per la verità la mia totale inesperienza di ogni ambiente che si colloca nello spazio del potere impedisce addirittura a me stesso di immaginare la strada, l'edificio, l'appartamento dove la riunione così importante per il destino del mio protagonista si svolga. Mi è difficile immaginare anche i tipi fisici dei personaggi che si radunano, discutono il caso di Carlo, eccetera. Non per civetteria, ma il lettore non si fidi di me. Vero è che una certa qual pigrizia mentale mi suggerisce l'immagine visionaria per detrazione di realtà di una casa ai perioli non lontana da quella affittata dal giovane Carlo. E inoltre l'immagine goffa, dura, vagamente popolare, sia pure sotto le spoglie, anche troppo rigidamente borghesi e per bene, dei nostri personaggi in ombra. Immagino anche un certo loro linguaggio gergale, il loro parlare d'altro, ma so preco spirito, strettamente economico, se si accettano gli excursus insignificanti di carattere meridionale e forense. Per me una persona che sia dentro un certo giro del potere, quando non si tratti di una dittatura, perché allora tutto è più semplice, non può essere del resto che un'apparizione. I nostri personaggi immaginari si radunano dunque, questo è il succo, nell'appartamento del più autorevole di loro, non un uomo ufficiale, ma per così dire un capo sicario. Oggetto del loro interesse è Carlo, ciò che viene deciso è di seguire Carlo, di sorvegliarlo e di tener nota di tutto ciò che egli fa. Incaricato di questa delicata missione, è un giovane catecumeno ai suoi primi lavori, benché già di fiducia, picciotto, picciotto d'onore. Non c'è dubbio che egli svolgerà il suo compito con scrupolo e anche con passione. È un giovane sui trent'anni, con la nuca oblunga, i capelli fitti, neri e corti, il viso molto bruno, quasi arabo, un profilo numismatico, sensuale, quasi da adolescente, se non che, come succede per esempio in certi poliziotti, l'ingenuità popolare, la fisicità prorompente, come è spenta e perché dà tutto una specie di grigiore ascetico. Tutto ciò che Carlo farà sarà, come visto, da questo sicario che non giudica. Ciò che lo dirò in proposito altro non è che il succo della relazione orale e perciò parzialmente dialettale. Vi ringrazio di aver seguito Petrolio.